ciao ciao a tutti amici ben trovati nel canale oggi abbiamo di nuovo un bel misto con delle dettiche intanto cominciamo con un turista per 10 anni questo è numero 8 della storia zero ok buona visione a tutti amici passiamo alla nostra grattata allora sotto le barchette abbiamo il numero di 100 33 38 e 35 buono su 11 e vogliamo un po che ci dico prima numero dove sta 37 quanto vuol cambiare 27 34 25 turista ora abbiamo 14 36 sempre vicini guardate c'è una quantina meno di quelli che abbiamo 30 niente 26 ultimo numero 17 e niente carissimi amici numero 8 verdente ok mettiamolo da parte adesso passiamo alla prima dedica di buon compleanno facciamo gli auguri a oggi 27 settembre facciamo gli auguri a rosaria pandolfo ciao rosaria tu volevi un venti per mi sembra mi sembra che l'ho trovato eccolo guarda un po il suo venti per vediamo se va bene così lo devo chiudere devo chiudere ok allora qua abbiamo il venti per rosaria per rosaria pandolfo questo numero 48 della serie 68 e ti faccio un gioco di buon compleanno carissima e passiamo la nostra cazzata numero 122 30 34 e 38 di nuovo tutto con la frontina perché abbiamo un 18 ok ok guarda pure la moneta primo numero abbiamo 42 la quarantina non ce l'abbiamo proprio seguo 43 naturalmente e 40 tanto per cambiare abbiamo 23 non c'è 24 neanche abbiamo il 34 26 niente 29 non ce l'abbiamo l'ultima riga ci dice 35 niente abbiamo 28 c'è il 38 31 niente 25 non c'è ultima possibilità 39 e abbiamo 38 carissima rosaria mi dispiace ma il non c'è ultima possibilità non c'è ultima possibilità non c'è ultima possibilità non c'è ultima possibilità allora questo è il numero 46 della serie 34 ok allora 24 45 11 e 33 ok 1 numero 16 vuole andare vicino al 15 abbiamo 17 11 23 e 34 niente segue 13 40 non c'è 30 neanche 25 e 24 ultima possibilità 31 mi dispiace cara rosaria che l'ho messa tutta però qua niente da fare e ci dico anche una monetina dai ecco qua tutti per rosaria facendo degli auguri di buon compleanno vi auguriamo una buona giornata oggi insieme ai suoi cari divertiti e fai quello che ti piace e vogliamo un po' questa monetina che ci dice questo numero 72 della serie 53 dobbiamo superare il 100 dobbiamo superare il 100 10 10 10 e 20 poi abbiamo 10 5 e 10 e niente 10 20 30 40 50 60 e carissima rosaria mi dispiace che non posso fare una vincita ma i gazzini sono così che ci possiamo fare poi gente intanto ti auguro una buona giornata e divertiti e tanta salute e tanti auguri di buona salute e poi di tutto quello che desidera il tuo cuore ti mando un bacio in particolare ok grazie per la richiesta ci vediamo al prossimo video continuiamo con un tutto per tutto questo è dedicato a tutti non è una richiesta in particolare ok questo è il numero numero 50 della serie 92 ok allora abbiamo numero 200 sono 22, 43, 34, 27 e 12 vediamo un po' 18 prima numero poi abbiamo 16 niente 25 non c'è e 40 neanche abbiamo 33 c'è 34 28 c'è 27 15 niente e 38 niente poi abbiamo 32 niente 35 non c'è 44 non c'è l'ultima possibilità 31 anche questo non è vincente carissimo ti facciamo un video flop per pazienza passiamo al prossimo bigliettino che è anche una dedica una dedica di un complanno che è stato ieri quindi ciao a grazia sì ieri 26 26 ieri è stata grazia privitera privitera ciao grazia mi disposto ma io non ho fatto il video tu volevi una non ho fatto il video allora te lo faccio te gli auguri per il compleanno ti volevo una battaglia navale ma non l'ho trovata allora ti porto un turista spero che va bene così che sei d'accordo ok allora e questo è un turista numero 4 del 26 27 ok allora sotto le barchette abbiamo 18 numero 100 18 31 39 e 30 ok il bonus primo numero abbiamo 37 segue 19 poi abbiamo 22 40 e 36 poi abbiamo 42 25 34 24 e 21 niente poi segue 43 17 c'è il 18 sempre e abbiamo 32 non c'è 44 gatti non ci sono e 11 niente passiamo al secondo gioco vediamo un po' allora 50 50 mila 10 mila 100 10 e 50 e il bulletto verdone mi piace caro grazie ma il bulletto non è vincente comunque vi vi dedico anche un decibel questo qui è il numero 74 della serie 34 forse è l'ultimo di un pacco ok allora vediamo un po' che c'è il decibel numero numero 100 27 46 34 e quindi primo numero 23 ecco ok ora abbiamo 45 non c'è 31 18 e 37 non c'è ne abbiamo 28 44 12 36 e 25 e anche questo bulletto è verdente stiamo continuando con gli verdenti adesso ci facciamo un puzzle e vediamo un po' che ci dice il puzzle questo è il numero 40 della serie 8 vediamo se almeno lui ci regala qualcosa per non andare proprio a vuoto ok primo bocchettino ci dice 31 che non vedo abbiamo 21 non c'è 62 neanche 51 eccolo poi abbiamo 14 14 non c'è 25 53 madonna non c'è niente qua poi abbiamo 50 20 65 ma sono io che non vedo il numero 17 non c'è 57 c'è 56 13 13 niente 35 niente 49 niente 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 27 niente ultima possibilità 34 ho messo persi i numeri o non c'è niente qua c'è il numero che ho trattato e comunque penso che 48 non c'è no c'è 49 ma non il 48 carissimi mi dispiace oggi è andata così guardate un po' allora 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 1 2 3 4 5 6 7 8 8 carissimi recupero 0 e comunque niente il video lo mando ugualmente io li mando tutti in coperno naturalmente io li mando sempre e e facciamo e rimediamo gli auguri gli facciamo gli auguri a Rosario e Grazia tanti auguri ancora di buon compleanno presenti passati e anche futuri ok allora buona domenica a tutti amici e niente vi do appuntamento grazie per avermi seguito volete in su iscrivetevi e condividete vi do appuntamento al prossimo video e speriamo più fortunato ciao ciao a tutti